Ad Albadriatica sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della Bambinopoli. Dopo le ultime mareggiate, gli interventi urgenti si sono resi necessari in vista dei poi successivi interventi di ripascimento entro l'inizio della prossima stagione. Nello specifico si tratta di uno stanziamento di 100.000 euro che la regione aveva previsto di investire prima della funesta mareggiata del 2 e 3 febbraio scorsi, che hanno ulteriormente peggiorato la situazione. Diciamo pure una buona notizia, nel senso che stiamo cercando di mettere in protezione la Bambinopoli nell'ambito di tante brutte notizie che hanno colpito il litorale della costa al Benze e non solo. In questo momento con fondi del bilancio comunale stiamo provvedendo alla sistemazione del tratto di recinzione che ha subito maggiori danneggiamenti. Quindi questi lavori prevedono una nuova palificazione, diciamo più resistente rispetto a quella che c'era, quindi saranno 10 i pali che verranno messi a 2 metri, diametro 6 centimetri, che dovrebbero consentire una maggiore messa in sicurezza. Più con delle situazioni adesso, con dei massi di protezione a che i lavori possano essere effettuati. Ne approfitto in questa situazione per, diciamo, smentire forse una errata indicazione da parte di alcune testate giornalistiche che hanno parlato della realizzazione di un pennello per la foce vibrata. Assolutamente no, perché non vogliamo, diciamo, ripetere errori. Quindi gli interventi riguardano solamente la posa in opera di scogli a protezione. Tutti gli interventi successivi, io spero che siano oggetto invece di una progettazione unitaria, che non dovranno riguardare solo il tratto di costa di Alba Adriatica, ma il tratto di costa, diciamo, per unità fisiografica Martinsicuro e Giulianova.